Quindi non è una cosa che volevo per forza, però sicuramente... La verità è inoppugnabile. Sicuramente. Cioè ma lei che fa? Ogni tanto ti dà dei messaggi? Sì, mi dice no hai sbagliato a parlare, devi dire. In realtà ce l'ho qua in cuffia, solo che non si sente. Adesso mi si è staccato e si è scaricato. Che c'è Albe in cuffia. Sì, anche. Albe è di qua però. Di qua ho Sissi che... No vabbè, comunque non mi ricordo più la domanda.